E' uno, e' giù, e' uno, e' giù, e' uno, e' due, e' uno, e' tre. Nonna, ma dove in campagna? Vedi che non si capite buone. Non buscete a casa, c'è sto vivendo con una, ma sono sentuta a conferenza. Do' precedente, vai la digigellina, campone fa sembramento. S'ho sentito la conferenza del Presidente, ma gli addici qui all'Incampon fa sempre mente.